Gianni Caprara, vi giocate il primo trofeo della stagione, i risultati dicono che è arrivato in un buon momento. Arriviamo in un buon momento sia noi che loro, credo che siamo le due squadre che giocano meglio in questo momento in Italia. Mi auguro che sia una pallavolo molto bella e che sia tanto pubblico, che sia una partita di cui ricordarsi. Si gioca ancora a Piacenza contro Conegliano come nella finale Scudetto dell'anno scorso. L'ossatura è rimasta la stessa, però qualcosa avete cambiato sia voi sia loro. Sì, qualcosa abbiamo cambiato, la sensazione mia è che ci troviamo di fronte a una telenovela che avrà tante puntate, questa fra noi e Conegliano, perché credo che saremmo i protagonisti di quest'annata, immagino. Noi abbiamo cambiato qualcosa, ringiovanendo un pochino la squadra, loro l'hanno cambiata mettendo dentro gente che ha già vinto in carriera, quindi sono due filosofie un pochino diverse, però entrambe le due squadre sono molto forti e quindi giocheranno una grande partita. Anticipaci la sfida di domani sera, dove si deciderà Piacenza Conegliano? Si decide, credo, sull'equilibrio di battuta e decisione, ma credo che si deciderà moltissimo anche con l'equilibrio mentale durante la gara. Cosa temi in particolare di Conegliano? Non temo niente, io temo nel senso che rispetto molto questa squadra perché giocano molto bene, voglio vedere la mia squadra, io sono molto concentrato dalla nostra parte del campo quest'anno, molto di più rispetto al solito, vorrei vedere la mia squadra crescere nella gestione dei momenti emotivi della gara e vorrei vedere la mia squadra crescere nella gestione tecnica di alcune situazioni che loro ben sanno. Chi vince? Ah, questa è veramente una bella domanda. Vincerà la squadra? Immagino che vince per ultimo l'ultimo set. No, che vince l'ultimo set, scusate.